Benvenuti nel mio canale, oggi recensione dell'album numero 355 di Dylan Dogg, l'uomo dei tuoi sogni copertina come al solito ad opera di Angelo Stano che questo mese però ha una vera chicca, una particolarità ovvero brilla nel buio, tutta questa parte bianca intorno alla testa di Dylan e questa strana chiave posta sulla sua fronte se noi spegniamo la luce sono fluorescenti, quindi una trovata commerciale abbastanza interessante, abbastanza carina l'anno scorso avevamo avuto la copertina del fumo della battaglia che aveva quella doppia tonalità di nero che dava l'effetto di fumo quest'anno Roberto Recchioni ci dà l'effetto fluorescente al buio ve lo volevo fare vedere nel video ma purtroppo con la telecamera non si vede la copertina fluorescente quindi sono molto dispiaciuto per questa cosa perché ci tenevo ma purtroppo non riesco a farvela vedere copertina di Angelo Stano come ho detto, oltre che per quella particolarità lì, molto bella, molto bello il volto di Dylan molto convincente anche l'espressione e l'effetto che dà al buio è veramente interessante perché spicca molto la sagoma di Dylan Dog soggetto e sceneggiatura di questa storia ad opera di Paola Barbato, disegni di Paolo Martinello di cosa parla questa storia? allora questa storia è una visione personale e dilaniata del Signore dei Sogni quindi la fonte di ispirazione principale di questo albo è la serie di film di Nightmare quindi come viene detto qui nell'apparato redazionale a cura di Roberto Recchioni quindi come ispirazione è stato preso il film Nightmare on Elm Street quindi dal profondo della notte di Wes Craven oppure anche Sandman di Neil Gaiman che parla sempre comunque dell'uomo dei sogni o la canzone è appunto Mr. Sandman che è quella anche di ispirazione a Fumetto di Morgan Lost e quindi che cosa ci dice Paola Barbato in questa storia? praticamente ci narra di un incubo che l'attuale ragazza di Dylan Dog che questa ragazza qui vive tutte le notti praticamente questa ragazza si vede seduta su questa sedia e davanti a lei compare sempre questo strano signore, questo vecchietto che ogni volta che lei si addormenta e sogna è sempre più vicino a lei quindi farà questi incubi terrificanti e lei si chiederà aiuto a Dylan Dog e Dylan Dog naturalmente accetterà il caso e poi si verrà a scoprire che questa serie di sogni cioè praticamente ci saranno a Londra e nel mondo tantissime persone che faranno di questi incubi e stranamente alcune di queste persone una volta che si risvegliano da questo incubo e compiono dei massacri, delle stragi chi si suicida e chi proprio invece uccide anche altre persone e allora Dylan Dog con l'aiuto di Block e con l'aiuto anche di Rania e dell'ispettore Carpenter tenterà di sbrogliare questo mistero la sua ragazza manderà alla polizia un identikit per tentare di capire chi sia quest'uomo ma come vi ho detto in premessa altro non è che comunque l'uomo dei sogni è molto interessante questa storia da un punto di vista diciamo della caratterizzazione dei personaggi perché intanto è una storia dove oltre che a Dylan Dog e alla sua cliente vengono messe in scena contemporaneamente sia l'ispettore Block che Carpenter e Rania quindi abbiamo un mix diciamo di Dylan Dog insieme a Block e Dylan Dog che collabora con Rania e queste due cose vengono molto ben amalgamate e molto ben messe in scena Dylan Dog inoltre si farà aiutare da questa signora che è un'abitante di Wicked Ford quindi un'amica di Block che è una specie di Madame Trelkovsky diciamo nuova nuova Madame Trelkovsky che darà una mano a risolvere il mistero perché praticamente questa signora riuscirà a far entrare Dylan Dog nei sogni della sua ragazza il come non ve lo dico perché naturalmente questa è una storia che va letta sarà anche molto interessante l'epilogo della faccenda dove praticamente viene spiegato il motivo per cui questo vecchio va nei sogni e viene spiegato anche il motivo per cui le persone una volta che lui riesce ad avvicinarsi del tutto quindi a toccarle guardate qui una bellissima scena in merito quindi quando lui si avvicina vedete mette praticamente una chiave nella fronte delle persone viene spiegato il motivo per cui questo demone o questo spirito fa questo è il motivo per cui una volta che fa questo le persone muoiono una storia veramente veramente valida che vi consiglio vivamente di leggere a mio avviso un capolavoro di Dylan Dog perché è una storia che mi è piaciuta particolarmente tanto e ragiona moltissimo sui sensi di colpa quindi sul fatto di riuscire o no a gestire le proprie colpe e i propri sensi di colpa molto bella come vi ho già detto l'interazione che c'è tra Dylan e Ragna e Carpenter e Dylan e Block quindi il fatto di vedere comunque Block e Ragna e Carpenter insieme nella stessa storia e poi cosa che mi rende questo albo veramente stratosferico oltre alla bellissima sceneggiatura perfetta di Paola Barbato sono anche i disegni praticamente da capogiro del signor Paolo Martinello allora io ho sempre detto che apprezzo moltissimo i disegnatori personali che hanno un tocco personale magari che non sono bravissimi a disegnare ma che hanno un tocco personale come Nicola Mari come, non so, quello che ha fatto il magazine, scusatemi, Basilieri Piccato, facciamo conto, che hanno o Dall'Agno, che hanno che fanno dei disegni non tanto realistici ma personali Paolo Martinello invece è uno della scuola realistica però non è un realistico come possiamo trovare su Zagoro, su Tex che bene o male è, diciamo, disegni ben fatti ma disegni qui siamo proprio dinanzi a delle fotografie, dei book fotografici quindi ogni vignetta di questo albo sarebbe da incorniciare, un quadro cioè guardate i volti, i capelli cioè dei disegni ragazzi da dieci all'ode, stratosferici guardate le espressioni cioè questo qui sarebbe veramente da ritagliare, questo albo qui e da farsi fare delle gigantografie, da appenderle in casa perché sono veramente delle opere d'arte Paolo Martinello come disegno realistico lo elevo al numero uno insieme a Daniele Biliardo cioè sono i due disegnatori di Dylan Dog realistici più bravi che ci siano proprio a livello anche assoluto quindi un album molto bello che ha un'ottima morale che unisce benissimo tutti i protagonisti della storia quindi tutti i co-protagonisti della serie di Dylan, scusate è una storia molto bella, molto onirica e che va letta se siete amanti anche voi della serie di Freddy Krueger come me quindi di Nightmare dovete leggerlo perché è veramente veramente bello se anche voi avete letto questo albo fatemi sapere cosa ne pensate ditemi anche voi cosa ne pensate dei disegni qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto condividetelo a più persone possibile e noi ci vediamo alla prossima recensione ciao ragazzi